Approvata in giunta la delibera per un'anticipazione di cassa importante, 300.000 euro per sbloccare delle opere pubbliche di primaria importanza per Roseto. Assolutamente un'amministrazione del fare, pronta ad essere vicina alle imprese, soprattutto in questo momento di difficoltà. I trasferimenti da parte del Ministero e della Regione ovviamente hanno una burocratizzazione che a volte rallenta il privato, allora l'amministrazione pubblica nei limiti del possibile, con disponibilità di cassa, deve essere accedere. Abbiamo deliberato con tutta l'aggiunta, convintamente, per un'opera strategica come quella del Pontile, che deve andare avanti velocemente, 200.000 euro di anticipazione, la ditta che sta lavorando per completare entro l'estate il lavoro di consolidamento, e poi 100.000 euro invece per la ditta che sta lavorando sul palazzo di Via Silvio Pelli, con la casa dello Sprar e delle associazioni. Anche qui un segnale importante verso il sociale e verso quelle associazioni che si occupano di essere prossimi ai risaggi delle persone. Un'amministrazione che cerca di colmare il vuoto lasciato da chi ci è preceduto, senza però riguardare il passato, ma sempre proiettati verso il futuro. Come stiamo facendo a tutti i bandi PNRR, alcuni già con grandissimi risultati positivi. Vedi la scuola di 10 milioni di euro, il nuovo polo scolastico della Federale Romani, vedi la nuova mensa scolastica di Santa Petronilla e i 5 milioni di rischio idrogeologico, ma soprattutto potenziando la struttura amministrativa. Ieri è iniziata con una nuova figura per 36 ore settimanali, mandata dal Ministero per un bando a cui abbiamo partecipato per 36 mesi, rendi contazioni e appunto burocrazia rispetto al PNRR. Abbiamo implementato gli uffici con supporti a RUP che possano far correre le carte più velocemente perché ci servono fondi da una parte, ma anche una macchina amministrativa efficiente che possa davvero rispondere ai tempi della pubblica amministrazione e del privato. Grazie.